Un marciapiede un po' troppo invadente, quello che gli automobilisti si trovano davanti non appena si inoltrano nella rotonda da poco realizzata all'incrocio tra via Mazzanti e via Le Santa Panagia. Sono tante le segnalazioni dei cittadini che chiedono come mai si sia realizzato un marciapiede dalle dimensioni di una piazzetta che occupa gran parte della carreggiata per andare verso Santa Panagia. Un incrocio nevralgico che accoglie le auto provenienti dal precedente incrocio tra via Le Tica, via Le Terracati e via Le Santa Panagia. Tanti gli automobilisti che non avendo preso bene le misure del nuovo poco spazio a disposizione hanno travolto il marciapiede ribattezzato marciapiazzetta e quando si ritrovano nuovamente sulla carreggiata per proseguire il tragetto verso Santa Panagia si ritrovano in confusione e con il pneumautico anteriore destro dell'auto spaccato. Come la storia raccontata e documentata dalla foto di un cittadino siracusano che dopo aver vissuto la rocambolesca esperienza con il marciapiazzetta si è recato dal proprio gommista di fiducia. Sul posto ha spiegato come la ruota si è arrivata a tale risultato e il gommista per niente estranito risponde che tanti dei suoi clienti arrivano reduci da quell'invadente marciapiede di via Le Santa Panagia. In pratica per passare il tratto di strada in questione bisogna fare una veloce e forzata sterzata sulla sinistra per evitare di trovarsi parcheggiati sopra il marciapiazzetta che occupa gran parte della carreggiata. Lamentele anche per l'altra corsia all'altezza del supermercato i cittadini lamentano anche in quel caso una carreggiata troppo stretta per far fluire correttamente il traffico. Lavori effettuati per evitare incidenti e smaltire il traffico in quell'incrocio tra via Mazzanti e via Le Santa Panagia ma sono in tanti a chiedersi il perché di un marciapiede così ampio che invade gran parte della strada.